... Padre Marciante, entrano nel vivo i riti della Settimana Santa, anche quest'anno ridimensionati a causa della pandemia, ma non viene meno il significato che sta alla base di questa settimana così importante per il mondo cristiano. Siamo ormai vicini alla celebrazione del Tridio Pasquale, come dici tu, e questa festa, questo evento straordinario della storia della Chiesa, del cristianesimo, è proprio la Pasqua, la Pasqua cristiana, la Pasqua che è la festa delle feste, è il grande momento in cui ognuno di noi da batteggiato ricorda l'episodio più importante della storia, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Come tutti sappiamo, in questi ultimi anni abbiamo avuto una Pasqua particolarmente strana. Abbiamo avuto nel 2020 una celebrazione pasquale molto, molto, diciamo, stranissima, molto strana, nel senso che io ricordo a porte chiuse. Abbiamo celebrato il Tridio Pasquale, semplicemente aiutato da un ministrante, dall'accolito e dall'organista che ha animato la liturgia del Tridio Pasquale. Nel 2021 finalmente abbiamo avuto un passo in avanti molto importante, con la presenza del popolo, ma limitati i posti, perché il Covid ancora minacciava la realtà delle celebrazioni libere, con la presenza di una comunità, con la presenza del popolo. Ecco, allora, queste due premesse, 2020 e 2021, sono episodi storici, straordinariamente toccanti in nostro cuore, che era abituato a celebrare la Pasqua con un complesso di ritualità, di gestualità, di religiosità popolare, che in questi ultimi due anni purtroppo sono venuti a mancare. Come si fa a vedere un venerdì santo senza andare a Calvario? Eppure nel 2020 non ci siamo andati. Non ci siamo andati neanche nel 2021. Come si fa a celebrare la Pasqua senza l'incontro pasquale? Eppure per questi due anni li abbiamo vissuti con queste mancanze forti, che hanno ferito e che hanno veramente impoverito la celebrazione della Pasqua. Purtroppo anche quest'anno non ci saranno queste celebrazioni? Anche quest'anno non ci saranno, però c'è un passo avanti che possiamo fare. Intanto, ecco, abbiamo avuto la possibilità di celebrare la Domenica delle Palme. Ecco, dopo due anni abbiamo avuto la gioia di vedere tanti bambini. Io dalla Chiesa Madre, da Santo Domenico alla Chiesa Madre, abbiamo fatto l'incresto stionfante di Gesù in Gerusalemme. E ogni mio confratello nella propria parroccia ha fatto anche questo. Ecco, questo è stato un passo avanti molto importante. Accontentiamoci. E se quest'anno ci sono pure i limiti, io direi che è stato frutto di una scelta prudenziale. Noi sacerdoti, consigli pastorali, ma principalmente le confraternite, siamo stati più attenti alla prudenza per evitare maggiori contagi che al ripristino totale di tutte quelle tradizioni religiose che ci mancano e avremmo deciderato di farle. Allora la scelta della prudenza credo che non sia una scelta negativa. È una scelta di sapienza, è una scelta di bene per tutta la città. Anche perché le disposizioni della CEI e delle disposizioni del nostro Civescovo sono disposizioni che permettono il ripristino di questi riti, ma con tanta prudenza, con tanta attenzione. E allora quindi la nostra scelta sciacca, accettiamola, con la speranza di magari aspettare la solennità del Corpo Sittome, nel ripartire come eravamo abituati prima, e poi in maniera particolare il 15 agosto avere la gioia di diminuire questi contagi e triunfalmente uscire oltre a Gesù sacramentato, il Corpo Sittome, la nostra Madonna del Soccorso. Lei è fiducioso per il 15 agosto che si possa ripristinare la nostra processione? Ecco, io credo che questi sacrifici che stiamo facendo ci potranno permettere questa uscita solenne della nostra mamma cereste. Tutti l'aspettiamo, l'aspettano i portatori, i marinai, l'aspettano tutta la città, l'aspettano i paesi che sono vicini a noi che ci domandano, ma la Madonna uscirà e speriamo, preghiamo, facciamo ancora qualche sacrificio per poter poi avere questo trionfo della Madonna in mezzo a noi. Torniamo alla Settimana Santa, cosa ci sarà domani, cosa ci sarà il giorno del Venerdì Santo? Io a livello di oggi sano posso anche annunziare che oggi tutta la Chiesa Cricentina celebra la Messa Crismale. Oggi pomeriggio alle ore 19 tutti i sacerdoti e i rappresentanti di ogni comunità saremo in cattedrale attorno al nostro Accivescovo Dignò Damiano per celebrare la Messa Crismale, cioè celebrare quella giornata del sacerdozio con la consegnazione degli oli che serviranno per l'amministrazione dei sacramenti, l'olio dei catecumeni, l'olio Crisma e l'olio degli infermi. Oggi invito tutti voi a pregare per noi sacerdoti perché è la festa del sacerdozio e attorno al nostro Vescovo noi vogliamo rinnovare i nostri impegni sacerdotali e tutta la Chiesa Cricentina vuole impegnarsi a camminare insieme. Siamo in un contesto di Chiesa sinodale e questo cammino insieme significa proprio la realtà di una Chiesa che c'è. Sinodo e Chiesa è un sinonimo che non possiamo, diciamo, dimenticare. Se non camminiamo insieme non siamo Chiesa e se vogliamo fare esperienza sinodale significa proprio questo, sentirci uniti tutti come Chiesa, come popolo santo di Dio per vivere il mistero della salvezza, per testimoniare Gesù dovunque siamo. Ricordiamoci che non possiamo essere solo cristiani che fanno processioni o cristiani che rispettano le tradizioni religiose. Saremo veramente cristiani alla maniera dei giudici livatino, cristiani veri, cristiani credibili, che viviamo il mistero della Pasqua di Gesù, che viviamo il nostro battesimo, che testimoniamo la nostra fede davanti a tutti. Solo allora veramente siamo vera Chiesa di Gesù. I giovedì santo, poi nelle nostre comunità, ogni parrocchio celebrerà la messa in Gena Domine, possibilmente anche con la lavanda dei piedi per quanto è possibile. In Chiesa Madre la celebrazione della messa in Gena Domine la faremo alle ore 19, per partecipare tutti al mistero eucaristico, con la lavanda dei piedi, per dire che noi siamo una Chiesa con campiule, una Chiesa che deve servire, una Chiesa che deve essere a servizio dell'uomo, che deve accogliere tutte le realtà, tutte le emergenze. Siamo in tempo di guerra, in tempo di pandemia, e oggi la cultura dell'accoglienza diventa prioritaria per tutti noi. Naturalmente con la celebrazione della messa in Gena Domine e con la lavanda dei piedi poi ci sarà la riposizione del Santissimo Sacramento e questo permette il ripristino di una tradizione molto bella che era il giro delle Chiese. Prima si chiamavano sepolcri, ma non è un sepolcro perché Gesù non è ancora morto. Però dopo la cena ognuno di noi può fare il suo cammino, diciamo, di fede, adorando Gesù nelle varie Chiese. Quindi questo percorso di adorante o anche stabile, ognuno si può fermare in una Chiesa, è proprio una tradizione che ci manca e la stiamo riprendendo. Ed è bello questa domani sera, domani notte, ritrovare tutti la gioia di essere davanti a Gesù sacramentato, adorarlo, rinnovare il nostro impegno di seguirlo per arrivare alla croce. Ecco il venerdì santo. Noi quest'anno, come ho detto all'inizio, per la prudenza che abbiamo scelto, quest'anno non avremo la via Crucisi della mattinata per fare la crucifissione e quindi portare Cristo che porta la croce, arrivare verso 12.30 a Calvario, come si faceva prima. Non faremo questo, ma si celebrerà solo la via Crucisi la sera. Alle 20.30, tutta la città, partiremo dalla Chiesa del Carmine, dove con tutte le comunità cittadine faremo il percorso processionale per ricordare la passione e la morte di Gesù in Croce. Arriveremo dalla Chiesa del Carmine, poi saliremo verso Porto Palermi, attraverso via Licata, percorreremo tutta la via Licata, via della Vittoria e a Calvario concluderemo questo momento di meditazione, di riflessione sulla morte di Gesù. Anche la via Crucisi avrà la contestualità del cammino sinodale. Ecco, invito tutte la comunità a gustare questo momento, perché veramente se non ti gusta la Pasqua, non ti celebra la Pasqua. Quando dico gustare intendo dire immedesimarci del mistero della parola di Dio, quella parola che si deve fare carne in noi, quella parola che dobbiamo vivere ogni giorno. La Pasqua, cari fratelli e sorelle, se non è passaggio, se non è cambiamento, se non è conversione, non possiamo chiamarla Pasqua. E Pasqua appunto perché siamo decisi a fare veramente un passaggio nella nostra vita. E ci sono tanti motivi per riflettere nella nostra vita spirituale, nella nostra vita di cristiani. Chiediamoci che Chiesa stiamo costruendo, che famiglia cristiana stiamo costruendo, che futuro stiamo preparando per i nostri giovani. Senza Cristo, senza la fede, che società avremo un domani? Allora, questo passaggio epocale tra Covid e guerra, abbiamo tante da riflettere, ascoltando la parola di Dio, fissando i nostri occhi su Gesù crocifisso, e lui ci darà una risposta per come dobbiamo vivere la nostra Pasqua e quali sono le aspettative di Gesù della Chiesa di oggi. Grazie a tutti.